Cip leader dei 1 A del Dex 5. Grazie a lui. Grazie a chi? A lui. Vedete che facciamo vedere un attimo. Lei è, scusi? Zollo Francesco. Mai visto, non mi sembra di averlo mai visto. Io non lo conosco. Vabbè, non togliamo visibilità al Cip leader che si chiama? Alex Travaglini. Bene, Alex tu vieni da? Pescara. Circolo? Quattro gogli. Ok, quindi siete un team? Siete numerosi? Sì, diversi. Siamo quattro di noi più altri circoli di Pescara. Bene, hai chiuso a quota? 572.800. Insomma, per la precisione. Direi che è su Everage? Eh, allora non eri attento. No, non ero attento. Non eri attento abbastanza. Bene, Alex. Contavo le fischi, quindi ero impegnato a contarle, non a vedere l'Everage. Bene. Come ti sembra di aver giocato questo torneo? A parte, vabbè, sicuramente la varianza può avere o non avere la sua influenza, ma ti sembra di aver giocato un buon poker? Sì, sì. Ho giocato ai game abbastanza bene, direi. Ho sbagliato pochi spot. Poi ho preso uno spot assurdo di 450.000 fischi dove push asso-asso e mi chiamano donna-donnetta le tre per terzo. Poker flop e là poi è andato tutto liscio fino ad arrivare a 572.000 fischi. Speriamo nel day 2 che continui così il rush. Speriamo che Zollo me ne dà altre. Che è ancora dentro anche lui, quindi insomma... Bene. Mi tribarre la blef, io lo chiamo. Sappiamo che ha anche tentato di corromperti, tra l'altro. Sì, ma ha comprato una Red Bull, ma io chiamo uguale. Bene, Alex, allora complimenti e in bocca al lupo. Ci vediamo domenica. Grazie. Grazie.